Episodio 29 di Word, oggi vediamo come lavorare con i pdf, vedremo come esportare questo documento in pdf e poi come importare dei pdf per riconvertirli in documenti di Word e da lì eventualmente modificarli. Allora per andare ad esportare in pdf ci basta andare su file, esporta, altrimenti non mi ricordo la shortcut per andare direttamente ad esporta, non so nemmeno se esiste, comunque potete fare eventualmente ctrl p, vedete che vi da su stampa e poi scendete su esporta. Avete queste due alternative, vedete qua che c'è crea documento pdf, noi facciamo crea documento pdf e vedete che ci da course award che è il file che abbiamo però in pdf, noi lo salviamo, facciamo pubblica e vedete che me lo apre con microsoft edge che qua a sto giro, ecco magari più tardi è ancora esistente sul mio pc ed è il visualizzatore di default dei pdf, vedete che questo qua è il nostro documento in pdf che mantiene il link se ci fate caso. Vedete che ha provato a mandarmi a creato da link ma io l'ho rimosso come file, anzi lo rigenero, perfetto l'ho ripristinato, proviamo ad andare ed ecco qua vedete mi ha downloadato il file che però era sul mio computer chiaramente, però il link funziona, possiamo togliere questo non mi interessa. A parte il link abbiamo il nostro pdf che funziona, fa tutte le sue cose, qua chiaramente anche i link interni sono validi quindi se avessimo un sommario potremmo spostarci, quando andremo a fare la modifica lo vedremo, comunque abbiamo il nostro pdf del documento a cui stavamo lavorando. Ora come vi ho detto potremmo voler modificare questo pdf e aggiungere il sommario, ora noi abbiamo qua word però lo andiamo a chiudere, voglio salvare, si a sto giro voglio salvare e cosa voglio fare? Voglio aprire questo file con word quindi mi metto qua sotto e apro word, eccomi qua, apro word, non c'è niente a questo giro, faccio apri, vado su cartelle, documenti, scendo c'è corso word pdf, word convertirà il documento in pdf, perfetto noi lo modifichiamo, nessun problema e cosa andiamo a fare? Andiamo qua, magari questo lo togliamo che tanto non serve a niente, eliminiamo tabella, perfetto, quello che voglio andare a fare è appunto inserire un sommario, quindi andiamo su riferimenti, sommario, lo inseriamo e vedete che mi va a prendere paragrafo 1 e paragrafo 2, se io premo su paragrafo 2 mi ha mandato a paragrafo 2. Quindi abbiamo preso il nostro pdf che avevamo prima e l'abbiamo importato e modificato, a sto giro salviamo, mi darà come corso word odt, a noi non interessa, interessa un pdf, possiamo direttamente salvarlo da qua come pdf, anziché esportarlo e lo andiamo a chiamare magari corso word 2, che sarà pdf così, altrimenti ci darà problemi, e noi abbiamo il nostro pdf corso word 2 e il nostro pdf corso word, se io vado qua e vado a premere, vedete non devo neanche premere con control e clic come abbiamo fatto su word, ci basta semplicemente schiacciare. Quindi abbiamo visto che i link vengono mantenuti, che è una cosa molto bella dei pdf, quindi in questo caso ha senso avere un sommario perché se abbiamo una cosa abbastanza lunga, chi legge il nostro pdf vorrebbe magari arrivarci subito, perciò paragrafo 2 e se lo legge. Quindi direi che abbiamo visto come creare un pdf e reimportarlo per modificarlo, direi che per oggi è veramente tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, sotto in descrizione trovate tutto ciò che serve per supportare il canale se ci tenete particolarmente e un livella community. Vi ringrazio, un abbraccio e alla prossima, ciao ciao!